Mi chiamo Simone Delbianco e vengo anche io dal mondo dell'imprenditoria, sono sempre stato un ristoratore per più di 25 anni e nel periodo Covid, un po' come tutti, mi sono avvicinato ad altre cose, sinceramente avevo intenzione di cambiare vita e anche io mi volevo un po' liberare da tutto quello che era il discorso di altre persone, volevo diventare indipendente e quindi ho cambiato totalmente mestiere e sono diventato un immobiliarista anch'io, ma nello stesso tempo mi sono avvicinato al trading, però sinceramente dopo i primi mesi di studio c'era qualcosa che non funzionava perché sul web si trova un po' di tutto e c'è tanta confusione sinceramente e casualmente ho scoperto Arduino schenato sul web e ho cominciato a seguire i suoi video gratuiti che ci sono sul sito. A quel punto ho capito che questa era la strada giusta per me, la semplicità, l'onestà di queste persone mi hanno sinceramente convinto che questa potesse essere la strada giusta e ho cominciato a seguirli più assiduamente. Poi sono entrato a far parte del Platinum che è un servizio che danno loro per capire un po' meglio il loro approccio, il loro metodo e niente, lì nella mia testa ero sempre più convinto sinceramente della strada che avevo presa e che era quella giusta. Poi ad aprile circa, se lo ricordo precisamente il mese, mi hanno fatto la proposta dell'accademia e questa accademia praticamente è un percorso che dura circa due anni dove loro ti seguono pari pari, passo passo in tutto quello che tu fai. Ci sono tutti i loro corsi che sono a pagamento sul sito, tu ce li hai già compresi nell'accademia, tutti i corsi che vanno sia dal mindset, dalla parte tecnica, il money management e man mano che tu vai avanti col percorso loro ti fanno fare anche una serie di esercizi per valutare il tuo grado di istruzione. Se secondo loro risulti una persona capace, allora ti fanno passare alla fase successiva. Io attualmente sono passato alla fase successiva e devo dire la verità, effettivamente questo è un percorso veramente valido. Valido perché in giro insomma c'è tanta roba, ma questo veramente ti dà quel plus in più. E niente, praticamente oggi come oggi io continuo nella mia strada, ho fatto tantissimi progressi e continuerò a farli e quindi grazie, grazie a tutti, grazie ad Arduino, grazie ad Antonio che ci mettono veramente il cuore in tutto quello che fanno.